Kourik dimentica pistola in hotel, l'allarme. Ma era finta. Nella stanza 1104 c'è una pistola. Chiamate la polizia. Inizia così la bizzarra vicenda che ha visto coinvolto Ante Kourik. L'ex gioiellino acquistato dalla Roma nell'estate del 2019 operazione studiata dal DS Monkey è finito tra i fuori rosa. Dopo tre anni passati a girare l'Europa in prestito senza mai sfondare. I fatti risalgono allo scorso 24 settembre. La volante 16 del commissariato Monteverde viene inviata all'hotelli festile, in seguito alla segnalazione di una presunta arma da fuoco rinvenuta nella camera di un cliente che dopo i dovuti accertamenti risulterà in uso a Kourik e a un suo amico, check-in effettuato dall'ex Dynamo Zagabria il 21 settembre. Dopo una rapida verifica da parte degli agenti, quella che sembrava essere a tutti gli effetti una beretta a PX si è rivelata soltanto una fedele riproduzione. A causare l'equivoco è stata l'assenza del tappo rosso alla fine della canna, utilizzato proprio per distinguere le armi vere da quelle finte. L'oggetto ritrovato è una soft air gun funzionamento a gaso ad aria compressa con una forza massima esprimibile in uno. Trejo Ules. A dare l'allarme era stato il personale dell'albergo, incaricato dallo stesso Kourik di raccogliere gli effetti personali presenti nella stanza. Non potendo recuperarli personalmente, nella giornata del 24 infatti il croato era volato all'estero per pochi giorni. E così, durante la pulizia della camera, dal cassetto di una scrivania è saltata fuori l'arma a giocattolo. Un ritrovamento insolito che ha fatto scattare immediatamente la chiamata alle forze dell'ordine. Possedere un soft air gun non costituisce reato. L'importante è che l'arma sia munita del classico tappo rosso. Che in questo caso mancava? Un'irregolarità che ha convinto gli agenti a custodirla in commissariato. Il calciatore, risultato irreperibile al momento del ritrovamento, è stato informato dei fatti da un responsabile della struttura.